La sociologa e psicologa grigentina Silvia Mendico ha pubblicato un nuovo libro intitolato Ansia facile. Da oggi in libreria, il volume ruota intorno ad una patologia che interessa oltre 5 milioni di italiani. L'intervista di Gaetano Ramana. Ansia, una tematica molto attuale, ma cos'è esattamente un disturbo d'ansia? Dunque, l'ansia è un insieme di sintomatologie, ma anche di pensieri, comportamenti e paure che una persona prova e che non riesce a gestire, in seguito ad uno stimolo sentito come minaccioso. Però il fatto è che non riesce a gestirla perché spesso non si conosce la causa e la motivazione di questa sensazione di minaccia. Il fatto è che molte persone ne soffrono e tante persone però mettono un po' a sottacere queste sensazioni. E questo non va bene perché comunque quando si ha un disturbo d'ansia bisogna porvi attenzione e non coprirlo mettendo un tappeto sopra, ad esempio. Ma bisogna alzare quel tappeto e capire cosa c'è sotto perché spesso quando noi abbiamo questo disturbo sicuramente c'è qualcosa, c'è stato uno stress, una problematica che c'è sotto. Tra l'altro c'è anche una sintomatologia fisica, quindi non soltanto paura o sensazione di minaccia ma c'è anche il corpo che parla. Noi dobbiamo ascoltare il linguaggio del corpo perché in realtà l'ansia non è soltanto una minaccia o una paura ma il corpo ci manda dei campanelli di allarme che bisogna attenzionare. E quali sono questi campanelli? Ad esempio appunto palpitazioni, tremore, difficoltà di decrutizione, difficoltà di respirazione ma anche nausea, vomito, sudorazione. In tanti modi può parlare il corpo e dire che ha l'ansia quindi sta chiedendo aiuto. E tra l'altro ci sono tante persone che spesso si recano anche in pronto soccorso perché tante volte queste palpitazioni diventano una forte forma di tachicardia o anche proprio dolori al petto e quindi magari corrono allertati in ospedale perché magari pensano di avere un infarto. Quindi bisogna ascoltare i disturbi ansiosi che parlano anche in questo modo. Lei ha scritto un libro che si intitola Ansia Facile. Va' così facile? No, infatti il titolo è un po' provocatorio. Ansia Facile perché chi soffre di disturbo d'ansia sa che di facile non c'è nulla perché è difficile gestirlo e come periodo è difficile anche vivere perché spesso si ha paura della paura e quindi nei momenti in cui non si ha l'ansia si instaura un circolo vizioso per cui l'ansia la quasi chiamiamo da soli perché abbiamo paura che torni e quindi la chiamiamo da soli. Di facile però nel mio libro c'è sicuramente la scrittura. Ho cercato di utilizzare un linguaggio semplice proprio per arrivare a tutti sia addetti ai lavori, professionisti della salute ma anche persone che soffrono di questo disturbo d'ansia o anche persone interessate a questa tematica. Diciamo che con parole leggere e chiare cerco di dare dei consigli, delle tecniche, dei suggerimenti appunto per aiutare a capire, a gestire questi momenti di ansia e soprattutto di rivolgersi anche a un esperto, a un professionista perché su 5 milioni di persone in Italia che più o meno soffrono di ansia è stato visto che soltanto una su 5 persone chiede aiuto a un professionista e questo non va bene perché appunto poi il disturbo d'ansia se è procrastinato per tante settimane o mesi può degenerare anche vere fobie specifiche, fobie sociali, quindi paura di uscire, quindi ci si fa accompagnare dappertutto, paure di vario genere, anche ipocondria e anche addirittura pensieri ripetitivi e compulsivi, quindi anche proprio disturbo ossessivo compulsivo. Grazie.